è un'agonia sognare stasera tuo padre non torna a casa è andato a dallas per lavoro oh figlio mio ti ha fatto davvero male riposa e cuorisci c'è della zuppa e del porridge dimmi cosa preferisci coraggio capitano scegli per me che succede lo vedo caroline di qua william ho un razza di stupido pensavi che ti avremmo lasciato qui gesù cristo gli escono le fattute a putelle premi sulla ferita usa le mani non va bene portatelo sull'elicottero piano piano 1 2 sono fortunato portato a termine ciò per cui sono nato le persone che mi vogliono bene non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza bombate siamo fuori fuoco si signora più veloce sta perdendo molto sangue un calore insopportabile asciugavano il cielo è in fiamme caroline sta morendo sta diventando blu bombate serve una barella all'hangar tra 90 secondi morte si avvicina ancora grida il mio nome vieni vecchia mia scusa se ti ho fatto attendere la mia scusa lascia che ti mostri una cosa billy mio padre mi disse che se avessi avuto un figlio avrei dovuto dargli questo è un anello di fidanzamento appartiene la nostra famiglia da molte generazioni riesci a immaginarlo billy è ciò che chiamano un cimelio quando incontrerai una persona speciale donale questo anello ha un valore inestimabile non dire a tuo padre dell'anello o te lo porterà via non ne sai niente lo sai come è fatto sofia madre sono perdonato ho vissuto rettamente abbastanza da guadagnarmi il paradiso non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza oh no madre sto andando all'inferno tira tira bombate ah devo asportare gran parte dell'intestino fai tutto il necessario seto resta con noi blaskovic resisti e ti prometto ti prometto che allora tutto bene kinderlach portate chiunque possa donare del sangue sentite tu tu e anche tu radunate tutti e metteteli in fila qui all'infermeria datemi una mossa cazzo accidenti mi serve luce nasconditi non fiatare sta arrivando sofia è qui sofia fuori dai piedi non merita questo lo sai che non se lo merita non dire stronza te l'ho visto con lei è solo un ragazzo non ha colpe lei gli piace è abbastanza grande da sapere che non dovrebbe passare il suo tempo con una sporca negra non ti lascerò fare del male a mio figlio non più non puoi immaginare la mia sofferenza sofia tutti i giorni a farmi il culo a farmi umiliare per mandare avanti la baracca e vedere i risparmi che se ne vanno li ho visti insieme sofia a sbaciocchiarsi sotto il pioppo non può andare avanti così ho faticato troppo a lungo per lasciare che mio figlio mi rovini la reputazione perché gli piace una negra rip non possiamo vivere così cucino pulisco vado alle stalle e al campo non sei il solo a lavorare rip avresti dovuto chiudere bottega quando mio padre ti disse di farlo ci stiamo indebitando siamo indietro di tre mesi con le bollette hai gettato al vento tutti i soldi di mio padre stai giocando con il fuoco sofia che credi di essere non sono il tipo di uomo che si lascia trattare così non sei più l'uomo che ho sposato ho sposato un uomo che non avrebbe mai lasciato morire di fame la sua famiglia e... per Dio mi aiuti non ti lascerò fare del male a mio figlio chiudi quella cazzo di bocca o te la chiudo io chi credete di essere dannati ebrei pensate di avere una risposta per tutto ebrea saccente del cazzo ti ho sposata per i soldi di tuo padre ma sei solo una palla al piede sempre a ficcare il naso nei miei affari invece di preoccuparti dei tuoi se non sai insegnare al ragazzo come ci si comporta lo farò io stai lontano strunza ingrata nascosto nell'armadio sei debole ti prenderanno di mira ti distruggeranno ti faranno ingogliare la merda e tu cosa farai? non sei nemmeno capace di difenderti ti insegno io come si fa sshh sshh respira piano Blaskovic rimettiti in sesto stanno accadendo grandi cose il vento sta cambiando il circolo Kraisau è risorto avrò bisogno di te al mio fianco quando faremo la nostra mossa mi senti Kansi? si 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 vieni qui brava non vai da nessuna parte fregna pure quanto vuoi nella vita dovrai prendere decisioni difficili a volte dovrai essere veramente cattivo uccidi o vieni ucciso i vecchi e i deboli sono spacciati tutti quegli scarafaggi quei malintenzionati e buoni a nulla che fanno di tutto per derubare gli onesti uomini bianchi sta a noi ripulire il mondo da quella feccia sta a te dito sul grilletto sei debole come tua madre ricorda tesoro mio finirà al meglio di come ha avuto inizio chi è quello sono io sono sei tu prendi ti stanno cercando merda arrivano ma nazista questo ora è il nostro sottomarino non lo riavrai non lo riavrai resisti agni sto arrivando fermo Blaskovic stop non muovere un muscolo finché non te lo dico io capito capito non scorreggiare nemmeno le microonde ti ridurranno in poltiglia e tu non vuoi diventare poltiglia vero Simpson? ok aspetta aspetta ora vieni attento il pavimento è bagnato significa che frau Engel mi stai cercando le parti ci sono invertite signora ora sono io a cercare te Caroline ovunque tu sia fai ciò che devi per tenere tutti in vita finché non arrivo ah 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 No, 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 no. Grazie. 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 Di nuovo in sella, vecchio. Ignora il dolore. Trova il modo di invertire la cinghia e vai all'ascensore della torretta. Ok, cinghia invertita. Si sale. Grazie a tutti. Lascia stare il mio uomo! William, stai bene. William, ho pregato perché ti risvegliassi. Sono solo un peso. Non dire sciacchezze. Ok. Sei... In piedi ora... Ti credi... Un eroe? William Joseph Blaskovic. Tirati su lo storchio! Lasciamelo dire. Non lo sei. Sei solo il beniamino della sporca feccia dei bassi fondi. Degli schifosi scarti della società che marciscono nei ghetti. Sì. Ma quando ti vedranno... Cambieranno idea. Ti trasmetterò in mondo visione. Guardate! Sì. E questo... E questo l'aspetto di un eroe. Uno storchio, un relitto umano che fiscia in un tubo. Tutti vedranno che sei un inutile scherzo della natura. Lasciatelo! Ah! Ah! Dankeschön! Oh! Zieh sie am krampo! Piega la testa! Non dire idiozie! La resistenza non si piega! Da! Mutter! Sikun! Sei still! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du wolltest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie hast... Das hat es ihnen gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast! Du willst sie befreien? Gut! Nimm! Nimm! Mach schon! Befreie ihren Kopf von ihren Schultern! Du hast mein Tagebuch gelesen! Lenk nicht ab! Kämpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen! Los! 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 Non posso, Muta. Mach scherzo! Non, non posso. Un libro con perversiore e verrati rischi. Das kannst du. Un'altra parte vanno anche in inglese. Pagine e pagine di schifezze partorite dalla tua mente degenerata. Niente mio corpo si riempie di grasso come quello di un tricheco. Non vedi in che posizione mi hai messo? È la legge che mi obbliga a denunciarti. Tu hai mai reso di leggere. Caroline Becker. Capo del circolo Kreisau. Il genio criminale. Non arrenderti mai, Mascowicz. Non dar la vita a questa gente. O forse no. Porca puttana, vi ammazzo tutti! Penso che... Cristo santo, vi ammazzo! Un'altra supermana! No, niente male! Il rumpa se il maestro! Un attimo fa era qui e ora se n'è andata. Che dici questi occhi hanno mai incontrato? L'amore. Baccio, baccio, baccio! L'amore. Zwing mi chiede Zwischen dir Portatelo qui Un altro tuo vecchio amico Ti ammasso Ti ammasso No, 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 no. Come va Blasco? Io ho avuto giorni migliori ma l'emorragia si è fermata. Dammi una ragione per non farti saltare le cervella. Parla lentamente. Sono un po' disorientato dall'emorragia. Posso aiutarvi, posso fornirvi informazioni, segreti militari, posso dirvi come liberare il vostro sottomarino, ci sono delle capsule di salvataggio da quella parte, conosco i codici per aprirle. Frena, 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 come liberiamo il sottomarino? Quella porta conduce ai controlli dei bracci elettromagnetici, da lì potete disattivarli e liberare il sottomarino. Quindi la puoi aprire? Sì! Ok, Blasco, trova i controlli e libera il sottomarino, non credo che ti... Mi spiace per la vostra vita. Zitta, ragazzi! Fergus, non si può che provare rispetto per uno che perde un braccio e va avanti come se niente fosse. Si possono fare un sacco di cose con un'ascia e un nazista. Caroline, mi senti? Prima di andartene proteggi la nostra gente, mentre mi occupo di questa cosa. Come ci hanno insegnato all'addestramento, bisogna far fuori prima i comandanti. di un'asciaio di un'asciaio di un'asciaio di un'asciaio. No! 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 Noi! Odin, sistema di sicurezza automatico. Ho trovato un'altra uscita. Noi! 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 No! 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 Caroline, ho rilasciato il martello di Eva e sto tornando dai nostri. Odio chiedertelo, ma resterai da queste parti. Così potrò tenere le tue ali ancora un po'. Da! Ok. Perlu... Grazie a tutti. 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 Un secondo. William. Hai controllato la piantina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. William. William, ho trovato la carta tecnica. William. Caroline. Non credo che... la farò forse... grazie a tutti. abbiamo... abbiamo... un'altra... torno agli armati... bombata e... bombata e ti farà uscire... che... 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 di... che... 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 Ben fatto Blazkowicz, vieni. Sono tutti riuniti. In un attimo, la vita di una persona. Seth, lo sa meglio di me. Non può guarirmi nemmeno lui. Ah, devi proprio farti inseguire, eh? Seth deve fare più attenzioni con i suoi esperimenti. Moika. Sei tornato, Simpson. Com'è il mio poligono? Staremo bene qui, Caroline. Hai sempre fatto la scelta giusta. Oh, William. Riesco ancora a sentire il suo odore. Ho trovato un mio poligono di caro, non mi sono facendo la vita. Seth ha mai aspettato il teatro. Tutto bene, Fergus? Come va il braccio? Aiutami. Ti prego, aiutami. Cosa hai fatto alla faccia? Credo stia tentando di uccidermi, Blazkowicz. Ecco cosa. Ti è mai capitato di addormentarti pacificamente per poi essere svegliato dal tuo braccio protesico che cerca di colpirti in un occhio? Ho dovuto spegnerlo. È normale? Cosa dice, Seth? Ha cominciato a blaterare di curve di apprendimento. Dice che devo imparare a fidarmi. Non lo so. Te lo dico. Non credo che lo userò per... Uomini, donne, bambini. Nessuno grida più, ma sento ancora l'eco delle loro voci. Ehi, Blazkowicz, fatti strada tra le macerie e raggiungi lo State Building. Prima arrivi, meglio è. Fergus, chiudo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Alla prossima. manca un bel pezzo allo state building caroline mi illumini la strada la strada Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Evacuazione completata. Salta dentro Blasco. Caroline, guarda. Un altro Angelo. Cucci, cucci, chi è la mia piccina? Sei tu la mia piccina, Abby? Sì che sei tu, sei una bambolina, sei proprio una bambolina Dobbiamo farlo, Grace Dobbiamo risvegliare lo spirito combattivo americano Scatenare una rivoluzione Merda Noi abbiamo combattuto ogni fottuto giorno, Blaskovic I bianchi invece hanno mollato il colpo Vedi, ormai non sanno più cosa significa combattere No, fanno tutto ciò che il Führer gli dice di fare Sono stronzate Niente male, baby Eh, questo Che cazzo è? Ok? 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 Grazie. Ehi, saludo. Hai visto il nuovo percorso di addestramento che Sett ha realizzato? Buonasera, capitano Blazkowicz. Grazie, mi ricevi. Vado a ripescare quella testata nucleare. Ricevuto. La tua tuta. Il caldo. Il prurito insopportabile. Come hai fatto a sopportarla con quella grazia? È così stretta che non riesco a respirare. Eppure, Caroline, hai lasciato un vuoto troppo grande da colmare. Ma la tua tuta è la causa. Sono ciò che mi spinge a continuare. È Anya. La sua voce. La sua incredibile tenacia. Blazkowicz, ho delle novità. Dalla carta tecnica, sembra che il deposito di testate nucleari sia protetto da un sistema difensivo. Vedo cinque sarcofagi per libernazione. Preparati al peggio. Grazie, chiudo. Non vedo niente. Mi serve una luce. Figurati. Non vedo niente. Non vedo. se mi senti ancora sono giunto ad una conclusione qualsiasi cosa succeda non deve pensare che crescerà da solo i nostri figli il mio fardello da portare finché non toccherà lei non ecco cosa farò starò lontano da lei non darò niente a vedere caroline essere moribondo mi rende bugiato ecco Grace, ho trovato la testata nucleare Fantastico, portala al vecchio Seth, giusto? L'ho aggiornato sui dettagli Piano, Shimshon, non è un Sasuke Stai bene? Fatti dare un'occhiata Sei pallido Hai nausea, hai febbre Sto bene, ma è stato meglio Ma è stato meglio? Beh, io mi metto al lavoro Ma tu devi riposare Dormirò quando sarò morto Fammi un favore, prima di morire vai da Grace nella sala di comando La vecchia stanza di Caroline Capitano, amico Miru Capitano Salve Caroline, ho fatto un casino, gliel'ho detto Alla fine era me che cercavo di proteggere Non lei Ok Vediamo se questo vecchio è pronto a spiccare il volo Come ha chiesto Grace Dimentica tutto il resto Elicottero è bello grosso e vivace Devo informare Grace Capitano Capitano Tutto ok L'elicottero è al decollo Perfetto È ora di una riunione Ehi, Mars Cosa hai fatto? Questo non va bene Che succede? Ah, merda Ecco che arriva Che cosa è che state fissando? Ok, Blaskovic Cerca il Papa Joe's o l'American Diner Troverai Super Special al ristorante Non far saltare la copertura Papa Joe's o l'American Diner Il mio genere di locale Un attimo di pazienza Non so Roba Fai pratica di tedesco, tesoro Ti separa? Oh, buongiorno signore Prego Si accomodi Arrivo subito Mi dica signore Purtroppo stiamo per chiudere È da portare via Facciamo in fretta Vediamo Io prendo Blaskovic Spesci sa che attaccherai l'Ubercomando Ma non hai idea della bomba atomica Dovrai dargli tu la notizia Vieni Peter Andiamo da un'altra parte Ma mamma Non abbiamo Niente ma Oh Viteci Grazie Buona giornata Tu Un frappea alla fragola Per favore Oh Non avrai un incendio da spegnere là dietro Altrimenti Tornerò un'altra volta L'incendio può aspettare Commandant Mi cerca la fragola in arrivo Pompier Conosco la tua faccia Tratti e ariani niente male Vieni dalla stazione 1? Ecco qua Oh Oh Vielen Dank Tu Fammi fettere i tuoi documenti Prego Blaskovic Chiudi la porta all'ingresso Prima che Non che non mi fiti Blaskovic Ma che mi dice che non indossi una maschera con la faccia di Blaskovic Però in realtà sei una lucertola spaziale Forza La password che ti ha dato Grace Grace non mi ha dato niente Ok Giù questa maschera E vediamo la tua faccia da lucertola Bastardo Super special Abbasso quest'arma o ti spezzo il braccio e ti metto K.O. Lo so che sei tu Terror Billi Stavo solo scherzando Seguimi Vieni Ok Segui il tunnel Arriverai alla zona di carico treni dell'area 52 Il modo più rapido per raggiungere l'area 52 sarebbe scroccare un passaggio a uno di quei treni Caroline mi senti? Pensi che mi vedranno svanire? Senza le tue ali cadrò Wow porca puttana Ora hanno dei treni razzo? Ma grazie a tutti grazie 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 a tutti. 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 . a tutti. 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 e tutti. a 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 tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a 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 tutti. . a tutti. 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 voi. se a tutti. a tutti.